Campo Scuola 2021 a Bombenziere dal 18 luglio al 1 agosto. Il Campo Scuola di quest'anno ha responsabilizzato ancora di più i giovani, i ragazzi e le famiglie. Tutto è stato ben organizzato e seguito anche nei minimi particolari. La partecipazione gioiosa e fraterna, ha detto il parroco arciprete Padre Salvatore Pignatone, a questa nobile iniziativa fa che si cresca non solo in età ma in sapienza e grazia, dando l'entusiasmo intelligente della bella gioventù ai molteplici momenti di gioco, di fraterna giovialità e di profonda formazione cristiana. Ottima la collaborazione con le autorità locali, sempre cordialmente disponibili. Infatti la partecipazione al Campo Scuola 2021 è stata notevole con la sinergia fra parrocchia e comune. La partecipazione al Campo Scuola 2021 è stata notevole con le autorità locali, la partecipazione al Campo Scuola 2021 è stata notevole con la sinergia fra parrocchia e con la sinergia fra parrocchia e con la sinergia fra parrocchia. Grazie a tutti.